Buongiorno, io sono Jean-Michel Carasso, oggi vi propongo una specialità marocchina e libica. Si tratta di una confettura di cipolle bianche che si mangia in accompagnamento del couscous in quei due paesi. Quindi gli ingredienti per fare questa confettura di cipolle sono cipolla bianca tritata finemente, olio d'oliva extravergine, curcuma, cannella in polvere, ginger o radice di zenzero tritata finemente, miele, zucchero e sale. Quindi noi mettiamo 3-4 cucchiai di olio extravergine nella padella, facciamo scaldare quest'olio e ci buttiamo la cipolla. Allora, quando la cipolla è appassita, noi andiamo ad aggiungere le spezie e condimenti. Mettiamo quindi il ginger fresco grattato, mettiamo la cannella, cannella in polvere, mettiamo la curcuma, adesso aggiungiamo il miele, ce ne vorrà un cucchiaio da minestra abbondante, aggiungiamo lo zucchero e mettiamoci un pochino di sale. Quando abbiamo ottenuto questa bella pasta speziata, zuccherata e salata, aggiungiamo un pochino di acqua, abbassiamo il fuoco, abbassiamo il fuoco, al minimo praticamente, e lasciamo cuoscere. È pronta la nostra confettura di cipolle libico-marocchina, è bella densa e la mangeremo come accompagnamento del cuscus marocchino o del cuscus libico. Eccola qui. Grazie.